Buonasera ai nostri telespettatori. Per i ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni, quella che ci stiamo lasciando alle spalle non è stata una settimana banale sul fronte dell'automotive che è il tema di questa trasmissione perché ci sono state le dichiarazioni del Presidente della Regione Marsilio in sede europea che hanno puntualizzato qual è la posizione in particolare del gruppo ECR ma nella sostanza anche da parte della Regione Abruzzo. Questo rispetto alla gestione di una transizione molto complessa che sta determinando più di una preoccupazione anche sul nostro territorio dove è inutile ricordare, è superfluo farlo, che Stellantis rappresenta la prima realtà industriale. Una delle principali è la principale, se le sommiamo tra di loro, fonte del prodotto interno lordo di questa Regione. Quindi parliamo di questo tema, cerchiamo di capire qual è la situazione e quali sono gli scenari con un parterre di assoluta autorevolezza. Saluto e ringrazio il Presidente di Confindustria Abruzzo, Abruzzo Medio Adriatico Silvano Pagliuca, buonasera. Buonasera. Al suo fianco il Direttore del Polo Automotive Abruzzo, Raffaele Trivilino, buonasera direttore. Buonasera. Amedeo Nanni, Segretario Generale della FIM Abruzzo Molise, FIM CIS, buonasera Nanni. Buonasera e grazie per l'invito. E l'assessore regionale alle attività produttive, Tiziana Magnacca, buonasera Assessore, bentornata a Rete Auto, bentornata anche lei da Bruxelles dove ha seguito questa trasferta, che io inquadrerei innanzitutto, proprio per farlo esporre a Marsiglio, con il tema delle sue dichiarazioni relative agli scenari dell'automotive, che non possono non dipendere da scelte e da politiche dell'Unione Europea, prima che ancora dalle sedi locali. Quindi a Bruxelles il Rete Auto ha avuto un suo inviato, Luca Pompei, che ci ha inviato appunto nel corso di questi giorni vari servizi sulle attività della delegazione abruzzese e soprattutto in questo caso sul discorso in aula di Marco Marsiglio. Può partire il primo contributo, così abbiamo anche modo di articolare le reazioni. Ha preso il via a Bruxelles la ventiduesima settimana europea delle regioni e delle città. Tanti temi che saranno trattati, introdotti peraltro ieri dal Presidente della Commissione Europea delle Regioni Vasco Alves Cordero. Ma a tenere banco in queste ore la questione evidenziata nel suo intervento, la cerimonia d'apertura, dal Presidente dei Conservatori e Riformisti Europei, nonché Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, su una politica di coesione nel complesso processo di transizione ecologica. Una transizione giusta che garantisca fondi strutturali specie in un settore delicato come quello dell'automotive. Chiaro che obiettivi ambiziosi e sfidanti devono far fronte risorse importanti. Se le regioni e i territori vengono lasciati soli, se l'industria viene abbandonata al suo destino e non viene accompagnata in questo processo, il rischio è quello della desertificazione industriale. Peraltro con poco beneficio complessivo perché l'Europa è una piccola cosa. Solo l'8% delle emissioni inquinanti, clima alteranti di CO2 vengono prodotte in Europa. Gli altri stati, le altre grandi aggregazioni continentali o subcontinentali, la Cina, il Nord America, la Sud America, l'India, non hanno questi obiettivi, non se li pongono e anzi continuano ad aprire miniere di carbone e a utilizzare pienamente i combustibili fossili. Questo crea uno svantaggio competitivo per l'industria europea e il rischio che ne paghiamo, rischiamo di pagarne già presto, le conseguenze alla crisi del settore dell'automotive, delle nostre fabbriche sotto gli occhi di tutti. Siamo ancora in tempo per intervenire, per correggere la rotta di questo percorso o incrementando i sussidi e gli incentivi e nello stesso tempo cambiando anche approccio, un approccio più pragmatico e meno ideologico. Anche il rapporto di Mario Draghi insiste sulla resilienza e sul tema della competitività. dice chiaramente che non si possono raggiungere obiettivi climatici e ambientali a discapito del benessere sociale perché altrimenti produrremmo un disastro e all'interno del nostro parere vengono raccolte queste suggestioni. Viene reinserito il tema della neutralità tecnologica. Chi lo ha detto che la liberazione dalla dipendenza dei carburanti fossili passi solo attraverso l'elettrico e le macchine alimentate a batteria. Ci sono altri carburanti come i biocarburanti, i carburanti sintetici, l'idrogeno che possono raggiungere lo stesso obiettivo e che magari sono anche più compatibili con la filiera industriale nazionale ed europea. Conclusione Presidente, questa sera è un accordo importante con una regione se vogliamo anche un po' gemella rispetto all'Abruzzo, regione dei Carpazzi in Polonia. Un accordo a seguito anche di un loro viaggio. Sono stati i nostri ospiti, hanno preso contatto con il nostro territorio. Noi abbiamo fatto altrettanto con il nostro assessorato alle attività produttive. Oggi formalizziamo un protocollo d'intesa, un accordo di cooperazione e di collaborazione. È una regione molto vocata all'industria manifatturiera, all'aerospazio e all'alta tecnologia. Sono caratteristiche simili a quelle dell'Abruzzo. Pensiamo che le nostre attività industriali e di ricerca possano fare sinergia, possano mettersi insieme per creare nuove opportunità di crescita reciproca. Questo è il servizio di Luca Pompei da Bruxelles. Presidente Pagliuca, in questo primo giro ovviamente io vorrei che ci si soffermasse sul tema della transizione ecologica, che poi ha delle conseguenze anche sulla produttività e sullo stato di salute delle aziende. Dal vostro osservatorio, che è quello delle imprese del settore automotive, c'è un tema legato alla transizione ecologica indubbiamente, ma qual è la sua incidenza rispetto al momento di crisi che il settore attraversa in tutta Europa? Cioè è uno dei problemi o è il problema principale? Beh dunque, intanto io dividerei in due la problematica. Cioè da una parte c'è l'esigenza di, come dire, una neutralità tecnologica, come diceva prima il Presidente Marsilio, ed è un aspetto, anche perché c'è il timore per le aziende poi di subire sanzioni, qualora al 2035 non fossimo pronti per la neutralità appunto, per l'impatto che ci attendiamo dalla transizione green. Ed è un aspetto e quindi vedremo, diciamo che ci sarà la commissione poi europea che si dovrà esprimere rispetto a quanto deliberato dalle regioni europee sul tema di spostare al 2025 l'analisi della situazione della transizione green. Poi c'è un altro aspetto invece che è molto più importante a mio avviso, c'è quello di guardare i dati, cioè capire anche come si può nell'Italia rispetto al mondo, perché qui stiamo parlando di un tema che riguarda tutto il mondo e dobbiamo anche ricordarci che noi oggi non abbiamo più di fatto un produttore di auto. Abbiamo una società francese con degli azionisti italiani, tra l'altro in Stellantis è presente la componente dello Stato, con la Golden Power, quindi diciamo che è di fatto una società a tutti gli effetti francesi e quindi fa e segue le politiche secondo quelle che appunto riguarda una produzione di quel tipo. La crisi dell'automotive intanto inizia molto tempo prima e non certo per la transizione green, perché nel 2017 la produzione mondiale delle automobili si attestava intorno ai 95 milioni di auto. Oggi, parliamo del 2023, siamo a 75 milioni, quindi c'è stato di fatto un crollo che sta adesso riprendendosi, ma di fatto c'è stato un crollo. Quindi molto spesso attribuiamo alla transizione green questo problema, ma di fatto non è così. Abbiamo quindi da una parte un'Italia che non ha più un produttore di auto di questo settore e dall'altra abbiamo una Cina che produce 27 milioni di auto l'anno, negli Stati Uniti siamo intorno agli 11-12 milioni, quindi abbiamo, in Germania ci siamo attestati intorno ai 3 milioni, insomma per dirla molto brevemente sui 12 paesi che oggi producono auto, l'Italia non compare tra questi perché noi siamo fermi a circa 450 mila auto e altri 250 mila veicoli commerciali. No, più quelle che compriamo che quelle che produciamo. Noi non siamo, non solo, ma noi ne immatricoliamo un milione e sei, quindi siamo di fatto dei compratori e non dei produttori. Ecco questo è un po' lo scenario da dove bisogna partire, poi anche per evitare di dare solo opinioni, ma anche costruire un po' un ragionamento su dati di fatto. Allora io invece al tecnico che il dottor Trivilino chiedo, nella certezza di avere una risposta sicuramente di grande interesse, perché è un tema di cui si parla, sulla situazione delle emissioni zero o vicine allo zero, quindi agli obiettivi che sono comunque da perseguire, su cui tutti siamo d'accordo. Se l'elettrico è l'unica opzione, perché si è parlato molto per esempio di questi biocarburanti, che determinerebbero anche una minore trasformazione dei cicli di produzione delle nostre aziende, che potrebbero in qualche modo avvicinare, se l'Europa l'incentivasse, una riduzione o un azzeramento quasi delle emissioni. Tutto ciò è possibile? È uno scenario alternativo oppure non c'è via d'uscita diversa dall'elettrico se noi vogliamo azzerare le emissioni delle auto che produciamo e su cui viaggiamo? Domanda da un milione, anzi da un miliardo. Il Presidente ha ricordato bene il tema della neutralità tecnologica. È un tema aperto, nel senso che secondo la decisione, il regolamento comunitario, al 2035 bisogna smettere di produrre auto con motore endotermico. Adesso è stato riaperto un po' la finestra sulla neutralità tecnologica. significa sostanzialmente dire non preoccuparsi, dire non mi interessa tanto qual è il metodo, ma l'importante è che io raggiungo l'obiettivo di avere emissioni zero. Ora, detto così è semplice, il discorso è ben più complesso, perché oggettivamente le varie tecnologie vanno sviluppate ancora di più. Chiaramente oggi l'elettrico è quello che sembra paradossalmente più semplice da portare avanti dal punto di vista tecnologico, perché gli altri, è vero che non richiedono il cambiamento del motore, e quindi si può utilizzare ancora il motore endotermico, però c'è molto da fare ancora sulla quantità di prodotto, perché per esempio i biocarburanti vengono o prodotti dagli scarti, oppure vengono prodotti da prodotti agricoli. Ma è vero che ci sono grossi investimenti di aziende di Stato come Eni e Italia, che insomma comunque farebbero di questo asset anche un valore aggiunto per la nostra industria. Che ha un costo, fare un impianto costa oltre 500 milioni, ma il problema è la materia prima. Cioè noi dovremmo utilizzare, per fare un biocarburante, bisogna utilizzare o scarti di produzione, oppure scarti dei cittadini, cosiddetti rifiuti, soliti urbani, oppure bisogna utilizzare granaglie, bisogna utilizzare soie, bisogna utilizzare una serie di materie prime che andrebbero a concorrere con l'alimentazione. Quindi il problema vero è capire fino in fondo quanto poi possa essere utilizzato questo mix. Cioè è giusto che si possa continuare a lavorare sui biocarburanti, per esempio gli E-Fuel, è chiaro che saranno sviluppati perché non ci saranno aerei a batteria, insomma, quindi è difficile, quindi per gli aerei per esempio bisognerà continuare a utilizzare queste forme, questi carburanti chiamiamo così alternativi. Io penso che la strategia più importante sarà quella di credere sempre di più nell'idrogeno, ma l'idrogeno comunque è la materia prima per il motore elettrico. Cioè perché noi facciamo, l'idrogeno viene trasformato nelle fuel cell, viene trasformato in energia elettrica che poi alimenta il motore elettrico. Io aggiungerei il problema del 2035, che è una riflessione che ho sentito fare anche dal nostro Presidente Varsiglio, è il tempo che noi abbiamo. Cioè noi abbiamo, mentre il settore industriale è abbastanza pronto, anzi dal 2030 la maggior parte dei produttori europei, non parliamo dei cinesi, sono già pronti tecnologicamente, anzi all'avanguardia sia col motore che con la batteria, perché il problema è, la cosa che incide di più nella macchina elettrica è la batteria, che è anche il costo maggiore. Quindi noi dobbiamo vedere, questo tempo non riguarda solamente l'auto, riguarda, che è molto più importante, riguarda le infrastrutture. Oggi la verità è che se noi avessimo una richiesta di mercato fortissima sull'elettrica, non avremmo i punti di ricarica, non abbiamo una rete di distribuzione idonea, perché guardate per fare i punti di ricarica in ricarica rapida, perché si parla di 100 kW o fino a 200 kW, ci vuole una rete che poi distribuisca. Cambiare tutti i distributori di benzina. No, ma oltre i distributori, anche la rete in generale di distribuzione. Esatto, esatto. Cioè quindi noi oggi, se volessimo fare, se ammettiamo che il mercato impazzisse, cioè noi oggi non abbiamo la capacità di alimentare tutte queste auto. Bene, lei è stata chiarissima, poi parleremo anche di altri temi nel prossimo gioco. Su questo però io vorrei concludere, sentendo naturalmente Nanni e soprattutto l'assessore Magnacca, ma a Nanni voglio chiedere se come lavoratori, perché Nanni oltre che un sindacalista è un lavoratore della X7, oggi Stellantis, avvertite questa contraddizione tra occupazione e nuove tecnologie elettriche che tolgono il posto di lavoro agli operai? Guarda, noi sicuramente sì, perché anche con il nostro report che facciamo ogni tre mesi, questo trimestre l'abbiamo indicato come profondo rosso, perché per la prima volta tutti gli stabilimenti del mondo Stellantis segnano un meno davanti. Se parliamo del settore dell'auto, parliamo dal 43% al 75%, se parliamo invece dei veicoli commerciali leggeri che ci vedevano nei primi sei mesi con una produzione in linea rispetto alla produzione che è definita, ma negli ultimi tre mesi invece ha subito un forte ripensionamento, iniziato prima su un limite sui cabinati, dovuto praticamente tutto al mercato della campereristica, invece successivamente si è aggravato anche sulla condizione dei van, il tutto ovviamente noi abbiamo sempre detto che a parità di occupazione l'endotermico rispetto all'elettrico già ci causava una perdita di occupazione di circa 70 mila dipendenti, ovviamente sì, quelli sono i numeri che noi conosciamo che avremmo perso, ma è anche vero che non dobbiamo guardare solo del lato negativo e insieme alla stessa Romagnac abbiamo fatto diversi ragionamenti, oggi abbiamo anche l'opportunità di attrarnearti, perché oggi non sappiamo cosa nascerà rispetto al motore elettrico, quindi l'obiettivo importante che tutti quanti insieme ci dobbiamo dare è proprio cercare di rendere il nostro territorio attrattivo, proprio per cercare di portare queste nuove operazioni che verranno sicuramente fatte. Se vogliamo parlare in maniera specifica dei veicoli commerciali, noi quest'anno chiuderemo a 300 mila vetture di vendite, ovviamente da quando ci sta lo stabilimento di Grivic in Polonia le 100 mila vetture verranno fatte sicuramente lì e quindi noi rimaniamo con 200 mila vetture. Se il mercato dovesse richiedere nel prossimo futuro invece un numero maggiore di vetture, ovviamente la produzione dello stabilimento Sevelle aumenterebbe. Per tornare invece alla transazione, la transazione dal nostro punto di vista è un problema, perché comunque vetture elettriche oggi è stato detto da chi prima preceduto. Sarebbe un problema con le ricariche, non abbiamo le strutture necessarie a ricaricare veloce la vettura e siccome è una vettura, differente dell'utilizzo che ne facciamo com'è l'autovettura, invece viene utilizzato proprio per il lavoro. Perché voi sareste comunque pronti a produrli questi modelli elettrici? Sì, dopo l'avvento di Amazon abbiamo avuto anche una flotta di vetture elettriche che abbiamo fatto, dopodiché il mercato non lo richiede, quindi a quel punto si è stoppato diciamo. Allora, io anzi, chiedo a lei di farle la domanda a Tiziana Magnacca, perché è bene che si chiarisca un punto, cioè questa ne parlava Pompei, questo incontro con la delegazione polacca, perché qualcuno può leggere questa notizia, dice ma questi adesso fate gli accordi con chi ci viene a togliere la produzione dall'Abruzzo, con uno stabilimento concorrente al nostro, ecco siccome è facile banalizzare su queste notizie, intanto vorrei che proprio il sindacato commentasse questo incontro che c'è stato tra la regione Abruzzo e quelli che sono i vostri competitor interni, come la leggete questa cosa? Quando c'è un confronto tra le parti, lo leggo sempre positivamente, le dico anche a livello sindacale stiamo pensando di organizzarci per andare a vedere realmente la situazione a Glivici, quindi se c'è una parte politica attenta alle situazioni, poi che siano polacchi, che siano di altre nazioni, la collaborazione fa sempre bene, io voglio mettere sul piatto anche in un'altra situazione, un'altra considerazione, allora se continuiamo a ragionare solamente come piccola regione o come singolo paese non ci difendiamo dall'attacco molto forte dei mercati orientali se vogliamo, quindi dobbiamo fare i reti tutti quanti insieme per cercare di opporci a quella condizione. Siccome c'è stato qualche intervento politico rispetto a questa photo opportunity, qualcuno l'ha chiamata che avete avuto con i rappresentanti della regione polacca, l'assessore ci spiega, lei era presente, ci può dire invece cosa bolle in pentola nella realtà di una collaborazione tra le due regioni? Ma sì, senz'altro l'intervento di Nanni è un intervento che esprime una maturità sindacale, è una consapevolezza se vogliamo di politica alta sui problemi, sui temi che stiamo affrontando ed è quello di cui abbiamo bisogno. Credo che la complessità delle sfide che ci attendono siano tali che a risolverle sempre se sia possibile risolverle debbano esserci persone che hanno uno standing un po' più alto, cioè occorre un momento di veramente maturità da parte di tutti coloro che sono chiamati ad assumersi delle responsabilità perché quando gli scenari sono così complessi le sfide non sono mai legate o riposte sulle spalle soltanto di un attore. Bene, questo tipo di consapevolezza di non essere un'isola da soli in un oceano è molto importante, tanto più se si capisce che l'Europa è una realtà e noi dobbiamo sentirci cittadini europei per poter vincere le competizioni che sono competizioni globali, cioè il nostro competitor paradossalmente non è la Polonia ma è il mercato intanto asiatico, il tema di cui si è parlato nella settimana europea delle regioni è soprattutto quello dello stretto legame che c'è tra sovranità tecnologica e coesione sociale, qui è un tema non soltanto di numeri economici ma di tenuta sociale delle nostre comunità, dei nostri paesi europei e in un momento in cui si parla di transizione il Presidente Marsiglio ha ribadito assolutamente la piena adesione all'idea che si abbattano le emissioni di inquinanti in atmosfera ma chiede che questa transizione sia giusta, sia equa, non lasci indietro nessuno e nessun territorio europeo possa esserne danneggiato, in che maniera? Intanto facendo piena consapevolezza sul fatto che le nuove tecnologie elettriche sono tecnologie che sfuggono all'industria europea, non abbiamo gigafattori, tante quante ce ne sono in Cina ma addirittura non siamo neanche pronti a smaltire quelli che sono i prodotti, chiamiamoli così, rifiuti dell'industria dell'auto elettrica, non abbiamo un'infrastrutturazione adeguata per cui anche in caso di ricarica come veniva detto poc'anzi non abbiamo non in Italia ma in Europa un'infrastrutturazione adeguata e soprattutto il consumatore europeo, ma a questo punto mi permetto di dire globale, ha espresso attraverso i dati di vendita e di acquisto delle auto elettriche una totale sfiducia verso l'auto elettrica, se è vero come è vero che in Germania è crollato nel mese di settembre il mercato dell'auto elettrico del 69%, allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che intanto dobbiamo dirigerci verso quella direzione ma con tempi più maturi, con fondi adeguati quello che è stato chiesto all'Unione Europea, non solo per i paesi che devono passare dalla dipendenza totale dal carbone alla totale capacità di produrre veicoli elettrici, ma in favore di tutte le nazioni europee che devono affrontare i temi complessi del presente e prepararsi alle sfide del futuro, come ha detto De Michelis che è un autorevole esponente italiano della Commissione Europea, dobbiamo sì guardare al futuro ma dobbiamo governare i processi del presente, per cui abbiamo fondi anche per tutelare l'occupazione di oggi, in attesa che si decida se l'auto elettrica è l'unica compagna di viaggio degli europei per i prossimi viaggi, cosa che io non credo, sarà una compagna di viaggio ma non l'unica, ma in attesa che ci si decida su questo, noi dobbiamo metterci, caricarci veramente sul cuore le sorti delle caratteristiche. Lei è stata a Bruxelles, però le faccio una domanda, ovviamente una risposta breve, vista anche la crisi della Germania che evocavate un po' tutti, che non riguarda solo l'automotive ma un po' tutta l'industria, ma in particolare l'automotive, c'è una speranza che questa strategia messa in discussione venga rivista davvero da parte dell'Unione Europea, quali sono i tempi e quali sono le sedi in cui potrebbero essere prese decisioni che in qualche modo, nella strategia generale del suo discorso, sono state anche indicate da Mario Draghi. Intanto non sono in grado di dare una risposta, non ho chiaramente la palla di cristallo, ma posso dirvi questo, che invece è un dato oggettivo al quale dobbiamo attenerci. Il Presidente Marsiglio ha proposto un parere che va in questa direzione, nella direzione della transizione giusta, soprattutto per tutelare i territori e i cittadini e questo parere è stato votato da tutta la delegazione dove sono rappresentati tutti i partiti europei con l'astenzione dei socialisti e la rappresentante del Partito Socialista Europeo si è complimentata con Marsiglio, quindi ringraziandolo anche dell'apertura, della capacità di dialogo che ha avuto nella redazione, che ha comportato un lavoro di circa un anno, astenendosi, noi sappiamo che l'astenzione è un mezzo sì, e quindi tutto è stato avversato unicamente dai verti, segno questo di una sensibilità cresciuta in Europa rispetto a temi che sei mesi fa erano un tabù, quindi Marsiglio ha fatto un lavoro importante sensibilizzando, raccogliendo consenso su questo tema, portando a questo risultato, cioè il voto favorevole di tutti, l'astenzione, con tanto ringraziamento dei socialisti, il voto contrario solo dei verti, quindi questo immaginiamo possa essere segno di una nuova maturità sul tema che può condizionare anche l'Europa. Quanto scusi alla Polonia, non siamo un'isola, dobbiamo cercare di essere una famiglia, quella europea e al tempo stesso cercare di usare, ottimizzare, sfruttare, trovate voi il verbo migliore, le grandi occasioni che ci vengono offerte. La Polonia ha un'economia legata all'aerospazio, quindi a industria forte, a tecnologie avanzate che potrebbero essere per noi una grande opportunità di inserimento in quella strategia. Quindi non si è parlato solo di automotive in questo incontro? No, abbiamo parlato, noi dobbiamo parlare di quello che sarà i domani e anche delle nuove frontiere, proprio per fare il ragionamento che ha fatto Nanni. Dove finiranno tutti i lavoratori che saranno esuberati dalle future fabbriche che costruiranno veicoli non più endotermici? E qui siamo al punto della seconda domanda, che è quella che ci riguarda ancora più da vicino, perché abbiamo parlato di temi globali, adesso parliamo di temi abruzzesi, perché Presidente Pagliuca, Stellantis, che lo dico per i nostri telespettatori, non è iscritta a Confindustria, ne può parlare anche con una maggiore libertà se vogliamo, ma c'è anche tutto l'indotto che vale probabilmente anche più di Stellantis in termini di posti di lavoro, di realtà industriali, di numero di aziende, che è comunque legata a Stellantis, si è identificata fino adesso con l'Abruzzo, perché dicevo inizialmente determina gran parte del PIL e così via. Dobbiamo iniziare a pensare che non sarà più così e soprattutto dobbiamo creare le condizioni perché non vi siano problemi per i lavoratori, per le imprese, che l'Abruzzo intanto non abbia, non dia a Stellantis l'alibi di non essersi fatta trovare pronta come Regione a, in qualche modo, a secondare quelle che sono le richieste di questo gruppo. Beh, allora intanto diciamo che sicuramente noi dobbiamo auspicare che Stellantis in realtà faccia quella produzione di elettrico che aveva dichiarato Tavares non più di qualche mese fa. Sarebbe grave se questo non avvenisse perché al di là della neutralità tecnologica il mondo sta andando verso l'elettrico e lo sta dimostrando anche con i numeri. È uscito ad agosto l'Outlook 2024 di Bloomberg che ha dato che, diciamo, la società che si occupa delle strategie del mondo dell'elettrico e ha dato un dato molto importante, cioè più 35% sull'auto elettrica a livello mondiale che significa 14 milioni di vetture elettriche che significa il 16% della quota di mercato globale. Quindi l'elettrico c'è, è una realtà con la quale bisogna fare i conti. Tra l'altro le batterie rispetto a qualche anno fa stavano intorno ai 1000 Euro al kWh, oggi sono scese intorno ai 120 kWh. Certo in Cina questo costo è sceso addirittura a 60 dollari al kWh e questo chiaramente è un problema perché mette nelle mani dei cinesi un potere notevole. Però la tecnologia è stata già scelta a mio avviso perché tra l'altro non è un segreto ma l'efficienza di un motore elettrico è quasi del 90% rispetto a quello di un endotermico che trasforma la maggior parte in calore e quindi la sua efficienza è intorno al 30%. Quindi un 30% di efficienza a fronte di un 70% di calore che va buttato. Quindi dobbiamo fare i conti con l'elettrico e allora qui dobbiamo capire come fare per creare le condizioni affinché qualcuno venga a investire. Una buona notizia noi in Abruzzo ce l'abbiamo perché c'è una società che va sotto il nome di Aera, probabilmente qualcuno di voi l'ha già sentita, è che ha già acquisito a Mosciano Sant'Angelo un'area di circa 200.000 m4, 100.000 coperti di questi e farà una gigafactory per la costruzione di macchine sportive di alto livello. Sarà una produzione interamente made in Italy, sarà quindi una produzione che in primis cercherà di chiedere collaborazione per i materiali all'indotto abruzzese, questo è quello che ci ha detto la proprietà. Quindi questa è una notizia che è buona da una parte ma che ci fa capire che bisogna puntare a una regione che sia in grado di attrarre investimenti su questo settore perché diversamente diventa un problema. Potremmo anche spostarla al 2050 ma se non investiamo, se non creiamo le condizioni… Faccio una provocazione a Raffaele Trivilino che sono certo la raccoglierà al volo e ci spiegherà come ha fatto nel precedente intervento un po' qual è lo scenario di questa situazione. Se la tecnologia è tutta in mano ai cinesi per quanto riguarda l'elettrico, i poli di innovazione, cioè l'innovazione, la formazione in questa regione su che cosa si devono indirizzare rispetto al settore automotive, c'è il rischio che non riusciamo a stare dietro a questa capacità innovativa che arriva dai competitor orientali? Io innanzitutto consiglio a tutti di leggersi il capitolo del report di Draghi sull'automotive che è molto interessante, sono 17 pagine quindi si può leggere anche, dove dice che sì è vero che gli asiatici o i cinesi in particolare sono più avanti, ma non è detto che noi siamo persi, non è che noi abbiamo perso tutto, anzi è uno stimolo, cioè Draghi ci dice recuperiamo, quindi proprio sull'innovazione è la vera scommessa, cioè l'innovazione e le competenze future sono la vera scommessa e qui bisogna dire che la regione mette a disposizione la valanga di soldi sull'innovazione e anche il tema della upskilling e reskilling come va di moda adesso detto, che era quello che poi diceva, ricordava anche Nanni, sarà una sfida per noi, quindi non è detto che noi siamo finiti, noi possiamo ancora competere se non ci addormentiamo, quindi il tema dell'elettrico si può affrontare soprattutto sia quindi per quanto riguarda i motori, quindi già noi per esempio l'Università dell'Aquila è all'avanguardia con i motori a terre rare, cioè per non dipendere dalla Cina, invece di andare a comprare le terre rare in Cina, adesso abbiamo fatto un motore che è più o meno efficiente, uguale, che l'ha studiato l'Università dell'Aquila, che non ha bisogno di terre rare, quindi possiamo, adesso c'è tutto il tema delle nuove batterie, le batterie addirittura al sodio, cioè quello che poi si dice batterie al sale, che vengono fuori da dove vengono? Dalla ricerca, quindi se noi facciamo ricerca e innovazione, noi recuperiamo il gap, se noi non lo facciamo rimaniamo indietro e quindi perderemo il treno, quindi il problema adesso invece è, che è stato detto, ma è lo stimolo che noi facciamo sempre, che la regione, che l'assessore ha detto prima, noi adesso dobbiamo fare un'alleanza tra tutti quanti in Abruzzo in particolare, perché è vero che i numeri sono in questo momento non positivi, io non dico proprio negativi, che comunque noi l'anno scorso abbiamo fatto 230 mila Ducato, quest'anno ne faremo 200 mila, cioè non è che siamo come le altre regioni d'Italia dove si è fatto il 40% di meno, cioè noi comunque è vero che abbiamo problemi e li avremo nel futuro, però bisogna ricordare che non siamo messi male come gli altri, abbiamo tempo per reagire, per fare questo ognuno deve fare la sua parte. Anche perché tutti i player del mondo della logistica non mi pare che siano in crisi, no ma lì c'è un problema, qualcosa deve viaggiare sui veicoli commerciali, no? Sì ma infatti quello che dici tu è proprio perfetto, ma solo che adesso c'è un momento contingente di mercato secondo me legato a scorte, legato a tanti fattori, anche il fatto della Polonia come diceva Nanni oggettivamente, però noi dobbiamo adesso non piangere, dobbiamo reagire e dire insieme cosa possiamo fare affinché la regione sia più competitiva, allora già sono state fatte delle cose, adesso bisogna lavorare di più, c'è uno studio che ha fatto fare il ministero del Made in Italy dove viene fuori che l'Italia ha grandi problemi di competitività sui servizi territoriali e qui mi sembra che l'assessore ci sta già lavorando, su tutto il tema dell'energia, sul tema diciamo con Nanni prima, sul tema della produttività, oggi noi abbiamo un numero di persone che vengono occupate per produrre un veicolo ancora troppo alto, vuol dire che bisogna fare investimenti, allora l'Europa dobbiamo chiedere, fa bene il Presidente Marsiglia a chiedere risorse, perché noi dobbiamo aggiornare gli impianti, se vogliamo essere competitivi dobbiamo aggiornare gli impianti, per fare questo ci vogliono risorse, ma quindi non possiamo avere limiti né con, diciamo così, sugli aiuti di Stato e tanto meno dobbiamo avere le risorse per fare questa giusta transizione. Se non li batti, fateli alleati, cioè mi riferisco per esempio a Renexia e i cinesi, un volano di un sviluppo straordinario potrebbe essere la nostra regione, peraltro con riflessi occupazionali proprio sull'Abruzzo, il Ministro Urso ha benedetto questo accordo, adesso deve essere l'Europa a dare un parere rispetto agli aiuti di Stato, anche perché non è un brevetto cinese quello che verrà in qualche modo sviluppato sul nostro territorio. Comunque noi dobbiamo fare un lavoro proprio sulla transizione giusta, cioè avere risorse per rinnovare i nostri impianti, per essere più competitivi proprio sulla produttività, lavorare sull'energia, lavorare sui servizi territoriali, la logistica, tutto il tema della logistica, l'Abruzzo purtroppo è lontano sia dall'approvvigionamento delle materie prime ed è lontano anche dai mercati, quindi la logistica deve funzionare come un orologio. Allora lo chiediamo a chi, ripeto, dentro la Sevel ci va a lavorare tutti i giorni, io la chiamo Sevel perché insomma abbiamo sempre... Meglio così. No, perché se no di Sevel sembra che non esiste più. Ecco esatto, non la chiamiamo Sevel, anche se gli uffici stampa di Stellanti ogni volta ci mandano il comunicato, non chiamatela più Sevel, vabbè però insomma. Io dico che per i metalmeccanici che lavorano in quella fabbrica, secondo me sono le persone che hanno più il quadro della situazione inevitabilmente davanti ogni giorno. Allora, le cose che chiede Tavares, che questo territorio dovrebbe mettere a regime, come si dice, secondo lei in anni sono fattibili e in che tempi? Siete preoccupati anche perché non c'è una risposta da parte del sistema pubblico rispetto a tutto ciò di cui ha bisogno il vostro stabilimento per restare intanto in Abruzzo? E' questo il problema? Allora, giusto una precisazione, io sono dipendente di Stellantis, però dal primo gennaio 2020 sto proprio in distacco sindacale, però sono sempre dipendente e mi sento a tutti gli effetti assolutamente, giusto per essere puntuali. Allora, noi praticamente stiamo vivendo, si diceva prima, mi piacciono tantissimo i termini transazioni giusti. Come FIM noi dicevamo che la transazione deve essere giusta e sociale e va in una direzione proprio di aiutare le piccole e medie imprese che sono nel nostro territorio, ma anche nel territorio italiano. Per quale motivo? Perché noi spesso ci focalizziamo a parlare, soprattutto di Stellantis perché ha grandi numeri, perché fa opinione. Però spessissimo le vere difficoltà stanno nelle piccole e medie imprese dove nessuno se ne accorge, nessuno quasi importa che si perdono tre posti di lavoro, si perdono cinque posti di lavoro, si perdono dieci posti di lavoro. Però là c'è una somma che è un numero molto importante, dietro quelle persone, dietro quei numeri, ci sono delle famiglie che iniziano ad avere difficoltà. Quindi in più aggiungo pure un altro elemento, non lo fa solamente Stellantis, ma è ormai un qualcosa che i grossi gruppi stanno portando avanti come meccanismo quasi spontaneo. Volkswagen, BMW già l'aveva fatto in passato e parlo dell'insourcing, loro per saturare i loro dipendenti prendono delle attività che in passato era stata fatta la scelta di darlo all'esterno perché costava di meno. Oggi invece riprendono queste attività, le riportano al proprio interno, saturano i loro dipendenti. Però è creato il problema alle piccole imprese. Quindi noi là in questo momento è l'anello debole. Infatti ci sono tanti ragazzi staff leasing con le agenzie, ma anche a contratto a tempo determinato con la stessa impresa, che ultimamente purtroppo hanno perso... Quindi non mi sbaglio quando dico che l'indotto ex Sevel, o Sevel come lo vogliamo chiamare, è pari se non superiore come livello di coinvolgimento da questa crisi rispetto alla fabbrica madre? Sì, assolutamente sì. In passato mi ricordo che era per un dipendente Stellantis e ce ne erano tre per l'indotto. In questo periodo diciamo uno e due, quindi quello diciamo è la proporzione. Quindi anche tutto il discorso della Valle del Tubo nel Terramano è collegato in qualche modo a questo. Sì, sì sì. E le faccio un'altra domanda, visto che lei è segretario, non c'entra con l'automotive, ma secondo me c'entra molto, perché lo diceva chi parlava delle gigafactory. Si parla di impiantare queste strutture altamente innovative anche sul nostro territorio. La seconda fabbrica d'Abruzzo, se non erro, è proprio l'Elfoundry ex Texas Instruments di Avezzano, che fa appunto sensori ottici e quindi è pienamente in una filiera che sarà utile anche all'automotive. Parlieremo, è legata all'automotive, c'è anche la Marelli, ma io parlo che vive la sua crisi. Ma parliamo di Elfoundry, dove c'è una proprietà cinese che è un po' sfuggente, per non dire altro. Insomma, voglio dire, però questa è una tecnologia del futuro. Perché non va bene sul nostro territorio, Nanni? Ma allora, noi come i film qualche anno fa facevamo proprio un convegno con Avezzano, con il capo del personale dell'Elfoundry. Mi ricordo partecipò anche il presidente della regione Marco Marsilio e proprio questa domanda facemmo alla proprietà Elfoundry. Loro hanno fatto una risposta molto semplice, dicendo, guardate, voi investirete milioni di euro su un qualcosa che non so se domani esiste ancora. Me l'ha riportato come formula di domanda. Quindi è questo il punto. Oggi viviamo una situazione, diceva prima l'assessore, di incertezza. Perché tutti quanti noi stiamo dicendo che per raggiungere emissioni zero, nessuno ha detto che l'elettrico deve essere per forza quella tecnologia che ci porta a quell'obiettivo. Ma ce ne possono essere diverse che non lascia morti, lasciatevi utilizzare questo termine, per strada. E quindi la stessa incertezza che hanno le persone, se devono acquistare una macchina, allo stesso modo ce l'hanno gli imprenditori che devono investire sulle proprie aziende. Certo. Mi sembra, assessore Magnacca, che abbiamo messo tantissima carne al fuoco. Lei, peraltro, per la prima volta forse nella storia di questa regione, è un assessore che accomuna nella sua delega sia le competenze difensive in materia del lavoro, lo dice però come fa uno sguardo rassegnato, lo so, sia quelle espansive. Cioè vale a dire l'assessore che deve andare sui tavoli a salvare i posti di lavoro e l'assessore che deve anche progettare lo sviluppo del territorio. Allora, ne do ovviamente più spazio perché le domande sono tante e poi andiamo in conclusione con le sue risposte. Partiamo innanzitutto da queste crisi industriali e da cosa è salvabile realisticamente e cosa deve fare la regione per non dare gli alibi a coloro che pongono queste questioni a volte un po' astruse rispetto alla scarsa competitività del nostro territorio. Beh, intanto partiamo da un dato di fatto. Un territorio è competitivo nella misura in cui tutti gli attori di quel territorio, tutti, si dice adesso, gli stakeholders fanno in maniera adeguata la loro parte. Quindi iniziamo da questo presupposto. Anche per questo ho parlato più volte di alleanza perché così si vince. Diversamente rischiamo che di fatto per quanto uno di questi stakeholders si possa impegnare il fallimento è dietro l'angolo. Per quello che riguarda la regione Abruzzo è ben consapevole di questo momento difficile, come ho citato, come ho detto prima, occorre guardare sicuramente avanti, sicuramente a quelle che sono le prospettive di sviluppo senza perdere di vista però il presente. Per cui i tavoli di crisi ci sono. Posso dire, facendo un dato statistico, che questi tavoli non sono tavoli di crisi per aziende decotte, presente quando si fallisce nell'obiettivo, nello scopo sociale. Sono crisi che sono determinate dai momenti di quasi tutti esogeni a regione Abruzzo e anche alla loro azienda, ma esogeni anche all'Italia, che vivono l'incertezza del mercato, del lato veicolo. Esattamente, quindi di fatto si trova a vivere questi momenti di difficoltà. Quindi intanto proteggiamo l'esistente, diamoci una scaletta anche di priorità. Proteggiamo l'esistente attraverso tutto ciò che può essere dato ai lavoratori in termini di protezione del posto di lavoro. Quindi i livelli occupazionali noi dobbiamo proteggerli il più a lungo possibile, anche con strumenti straordinari e non conosciuti finora. Perché nell'attesa che si definiscano esattamente questi processi, nell'attesa che le aziende facciano le loro scelte, viviamo in un'economia di mercato, vorrei ricordarlo, l'economia di regista, l'economia di piani quinquennali è finita da un pezzo. Quindi nell'attesa che ci siano le condizioni di fare le scelte, noi abbiamo l'obbligo di proteggere questi posti di lavoro. In che maniera? Intanto utilizzando al massimo tutte quelle che sono le maglie delle casse integrazioni in deroga, ma temo che anche queste nel corso dei prossimi mesi saranno esaurite, per cui stiamo lavorando per, neanche sensibilizzare perché il governo lo sa, stiamo lavorando per trovare, tentare di trovare fondi sufficienti per proteggere questo settore determinante per l'economia nazionale, quale è quella dell'automotive, con ulteriori misure di ammortizzatori sociali, perché appunto questo significa pensare al presente. Dopodiché occorre immaginare, qui non bastano i fondi regionali, nazionali, europei, qui bisogna fare un salto di qualità, bisogna alzare l'asticella e fare veramente un cambio di passo culturale, perché si capisca che l'operaio, così come l'ha fatto Nanni finora, probabilmente non sarà il futuro di chi lavora in un opificio, in un'azienda o non fatturiera. Però se mi consente, Assessore, c'è un passaggio intermedio, del futuro di cui poi parleremo e avrà tutto lo spazio necessario, ma c'è il presente, perché io ho fatto riferimento al fatto che molti dicono, ma in Abruzzo non state facendo le infrastrutture che noi chiedevamo, porti, aeroporto, vie di comunicazione, costa troppo l'energia e tanti altri fattori che fanno l'attrattività di un territorio. Allora, intanto sulla infrastrutturazione viaria, se vogliamo dire, il Presidente Marsilio vi ha lavorato non solo a lungo, ma anche proficuamente, tant'è che abbiamo, parlando solo di fondi PNRR, senza aggiungere gli FSC, abbiamo per le aree industriali oltre 50 milioni di euro e nel mio confronto ho avuto a Roma, nella sede della ZES Unica, il capo della struttura mi disse che siamo tra le regioni che hanno interventi più pesanti, interventi che sono stati messi a terra dal commissario straordinario della ZES Regione Abruzzo, fermati, questo va detto un po', si sono allenati con il passaggio alla ZES Unica, ma proprio ieri e quindi colgo l'occasione Io l'avrei invitata proprio per parlare di questo Sì, proprio ieri con un lavoro disponibili in Abruzzo per accelerare i processi di decisione, di definizione e comunque di esecuzione delle opere infrastrutturali ZES. Devo dire che con l'Avvocato Giasi Romano che oggi è al capo di questa struttura siamo riusciti a portare a termine un accordo di primo livello, seguito poi da un accordo di secondo livello approvato proprio ieri in giunta con l'USR che è l'ufficio della ricostruzione, cioè l'ufficio meglio attrezzato in termini di competenze, quindi con architetti, ingegneri, geometri che hanno lavorato finora con appalti pubblici a sostenere la ZES Unica in questo processo di accelerazione. Vi diceva Trivilino che Rivera già è venuto a visionare i cantieri in Val di Sangro, mi conferma questa notizia. C'ero anch'io ovviamente in quella data e quindi adesso c'è questo flusso di informazioni di carte da Roma all'Abruzzo, contiamo davvero di rinverdire, rivitalizzare tutto quello che è il mondo amministrativo legato alla esecuzione di queste opere perché queste opere sono importantissime per la nostra regione, a prescindere di chi ne abbia la competenza, ZES Unica, la regione Abruzzo, a noi interessa portare a casa il risultato per gli abruzzesi. Chiedo a volo a Pagliuca se è soddisfatta con l'industria di questa, siamo stati noi che abbiamo scagliato il primo sasso nello stagno? Sì, siamo soddisfatti perché questo accordo ha riportato l'operatività sul territorio e che quindi ci consentirà di interlocuire meglio e di agevolare tutte le fasi anche burocratiche che comunque ci saranno. Quindi la notizia è sicuramente buona. Volevo cogliere l'occasione rispetto anche al tema degli investimenti per quanto riguarda l'automotive che mi vede d'accordo su quello che diceva l'assessore Magnacca e cioè che alla fine è chiaro che gli investimenti che può fare una regione rispetto a tutto il resto è comunque una piccola parte, vi do solo un dato, la Gigafactory che sarà fatta a Saragozza in Spagna da Stellantis, Stellantis ha ricevuto dal governo spagnolo 350 milioni ma un investimento che dovrà fare Stellantis è di 4 miliardi, quindi il problema è trovare ancora una volta un produttore che abbia voglia di investire 3-4 miliardi per una Gigafactory italiana. Noi oggi siamo l'unico paese che non ne ha. Per chiudere definitivamente la ZES e poi tacerci tutti quanti per le conclusioni dell'assessore aggiungo che anche dal punto di vista dei progetti delle singole imprese, autorizzazioni uniche, le cose si sono mosse dalla nostra denuncia e anche da ciò che voi avete fatto in termini di interlocuzione con la struttura di missione nazionale. Abbiamo fatto, tra l'altro ci sono territori abruzzesi dove gli sportelli unici erano non solo funzionanti ma anche estremamente efficienti, per cui partivamo da standard molto alti di prestazioni, chiamiamoli così, però abbiamo trovato una struttura che con grande umiltà, senso della oggettività, ha compreso i ritardi. Noi contiamo di lavorare ancora meglio con loro per avere anche su questo aspetto delle interlocuzioni che passino anche qui attraverso Regione Abruzzo per poter risolvere ancora i gap che alcuni hanno riscontrato, sempre nell'interesse delle nostre aziende e del mondo produttivo abruzzese. E veniamo ai piani B per il futuro di cui ci stava iniziando a parlare. Sì, di certo i piani B del futuro passano intanto per una nuova consapevolezza sull'importanza della formazione. La formazione è stata anche in Europa, confrontandomi con gli assessori delle altre regioni europee, si è posto il tema della competenza, quindi la formazione che porti i ragazzi e il mondo del lavoro verso le materie, le STEM, le famose materie che vedono la tecnologia e le scienze in primo luogo. In questo il governo italiano ha fatto un passo ulteriore rispetto al passato, per cui ha rivisto la scuola di secondo grado diminuendo gli anni di impegno ma anche accelerando questa formazione verso la tecnologia e la scienza. Questo è bene che lo dico, lo approfitto di voi per dirlo anche ai ragazzi, quanto sia importante la preparazione verso queste materie, non dimenticando neanche la multidisciplinarità, perché se è vero che l'intelligenza artificiale sarà il futuro, è anche vero che occorre mantenere l'importanza dell'uomo al centro. Però dobbiamo avere ragazzi formati in questo. Nel frattempo, su quella che è la competenza più basica, ci sono fondi pubblici da PNRR su cui Regione Abruzzo, come le altre regioni, hanno organizzato i percorsi di formazione GOL che sono disponibili presso tutti i centri dell'impiego di Regione Abruzzo e in collaborazione con gli organismi di formazione offrono una riqualificazione delle competenze rispetto a coloro che sono notoriamente, per varie ragioni, lontani dal mondo del lavoro. O i fuoriusciti. O i fuoriusciti. Quindi gli esuberati o quelli che sono disoccupati di lunga durata, quelli che sono qualificati, i ragazzi appena diplomati o ad esempio le donne che hanno smesso di lavorare per ragioni familiari che vogliono tornare nel ciclo produttivo. Sono corsi totalmente gratuiti che permettono di raggiungere una qualifica. Li abbiamo rimodellati in un numero minore di corsi, anche di minore ore, appunto per fare in modo che più persone possibili possano accedere a questa qualifica. La scuola superiore, la scuola all'università sono importantissime. Noi abbiamo in Abruzzo delle grandi eccellenze, cominciando proprio dall'Università dell'Aquila che nelle facoltà di ingegneria, nelle varie declinazioni curriculari offrono intanto dei riconoscimenti nazionali, ma ci permettono anche di poter mettere a disposizione del mondo delle imprese queste grandi competenze. Su questo dobbiamo dire che come Draghi ha evidenziato nel suo rapporto, ma come è emerso proprio adesso a Bruxelles, il connubio ricerca e sviluppo con le realtà aziendali è indispensabile per poter fare questo salto verso il futuro, un salto con la rete. Per cui non possiamo, e tanto è vero che i prossimi bandi regionali che saranno messi a disposizione delle aziende riguardano la grande ricerca dove troviamo sia la grande azienda sia la piccola e media azienda che fanno filiera e al centro la ricerca e l'università. Così come abbiamo finanziato le borse per i ricercatori universitari che si metteranno a disposizione delle aziende per creare prodotti innovativi ad alto contenuto tecnologico. Questo è il futuro, la formazione è una parte integrante ed indispensabile per poter andare a rincontro al futuro e per poter essere competitivi, perché questa è la parola chiave del futuro prossimo, anzi del presente, quindi non allunghiamo, e della competitività, l'innovazione. Ultima domanda perché abbiamo solo un minuto a disposizione, sarà l'Abruzzo Lab internazionale come spera anche Renexia della costruzione delle nuove turbine per i parchi eolici che sono pronti ad essere impiantati, per esempio a largo della Sicilia. Il Ministro Urso ha sostanzialmente approvato questo progetto, manca un parere importante da parte proprio della Commissione Europea perché c'è un partner cinese. Ci sono aggiornamenti su questo? Sicuramente ci stiamo lavorando, abbiamo avuto anche un incontro la settimana scorsa io e il Presidente Marsilio e il Consigliere Delegato all'Energia Campitelli proprio con l'impresa privata che intende sviluppare questo progetto. La Regione Abruzzo farà tutto quanto è nelle sue possibilità per essere capofila in questo progetto, chiaramente nel pieno rispetto delle normative ambientali, nel pieno rispetto dei territori che vanno coinvolti e vanno resi protagonisti di queste scelte. Quindi questo è il nostro indirizzo e credo che l'Abruzzo abbia tutte le risorse e le capacità per essere capofila non solo di questo progetto ma di tutti quelli che sono i progetti che saranno decisivi per il passaggio da un'economia novecentesca come quella che abbiamo adesso, anche la produzione novecentesca, all'economia del futuro. Vorrei solo citare l'importanza che ha dei vari distretti ma l'importanza che l'Abruzzo ha, che non ha mai sufficientemente valutato, quella dell'economia dello spazio. Abbiamo Telespazio, Alenia, Leonardo e questa è la nuova frontiera dell'economia che permetterà anche di riassorbire quelle aziende dell'automotive che hanno avuto capacità di sviluppo di tecnologie molto innovative e che si troveranno lì dello spazio utile. Ci sta investendo l'Europa così come il Governo centrale. Grazie Tiziana Magnacca, grazie Presidente Pagliuca, grazie al Direttore Trivilino e Amedeo Nanni. Grazie ai nostri telespettatori. Arrivederci alla prossima occasione con i fatti e le opinioni che non sarà venerdì prossimo perché venerdì prossimo gioca il Pescara, quindi avremo tutta una serata dedicata al calcio di Serie C, ma sarà, lo annuncio sin da ora, il 25 ottobre in cui avremo ospite in studio il Presidente della Regione Marco Marsiglio e a intervistarlo insieme a me sarà il Direttore del Centro Luca Telese. Grazie a tutti voi, arrivederci. Grazie a tutti.